Il Dottore E' stato investito! Dobbiamo operarlo! Subito! Ne ha parlato pure un pochino di baffetto, Kai! Ma sono sempre stato un ottimo barbiere, però quando c'è stato questo virus con i miei AIDS, ho già avviato da poco a leggere gli articoli di medicina su Facebook, e Rapan, insomma, sono diventato un esperto in medicina! A posto! Grazie! Tu che t'affa? Tutto per me è solo shampoo e barba! Tu invece? Tutto per me è una ricetta veloce! Tu invece? Tutto per me è capilla e radiografia! A posto, vieni qua! Allora, ti devi prendere queste supposte infrapack dopo i pasti due volte al giorno, mattina e sera, va bene? Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Cioè, tu mi credi? Io l'ho provato di tutti! Ho provato dottori, medici specialisti, ma come cura il parrucchiere mio, nessuno! Cioè, quello ora entra il mio medico di fiducia! Savo tutto cosa! Do greati! Ciò che ha? Vieni qua! Gosti! Cioè, non so! Grazie a tutti Grazie a tutti